Tutta la comunità di Barga è rimasta sconvolta dalla notizia del tragico incidente avvenuto a Fornaci di Barga, dove ha perso la vita un giovane di appena 18 anni, Francesco Tontini, che abitava a Barga. È morto a lungo via della Repubblica alle 21.30 di giovedì sera, investito da un auto all'altezza dell'incrocio con via Galimberti, un'auto condotta da un giovane 26enne di Ghivizzano. L'impatto è stato forte, tanto che la KTM di Francesco, che aveva una grande passione per i motori, è andata distrutta. Uno schianto violentissimo, sulla dinamica del quale sta indagando la polizia stradale che è intervenuta per tutti i rilievi del caso. Sul posto sono subito arrivati i soccorritori del 118 e della Misericordia del Barghigiano, che hanno tentato l'impossibile per salvarlo, allertando anche l'elisi occorso. Purtroppo il ragazzo è deceduto durante il trasporto al campo sportivo Gionimo Scardini di Barga, dove è poi atterrato l'elicottero del 118. La salma del giovane è stata poi trasferita all'obitorio di Lucca. L'uomo alla guida dell'auto, come da prassi in questi casi, è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti su eventuale uso di droga o abuso di alcol. La vittima, il cui padre è un militare dell'arma in servizio al radiomobile di Castelnuovo, aveva un impiego come meccanico apprendista in un'officina di Castelnuovo Garfagnana ed era molto conosciuto in Valle del Serchio. La madre non è dipendente della stessa misericordia del Barghigiano, il cui personale ieri ha soccorso il giovane. Anche Francesco era un volontario e stava attendendo con impazienza la risposta alla sua domanda per poter entrare a far parte del servizio civile della stessa misericordia.